Buongiorno a tutti. Oggi è giovedì 6 agosto e parliamo di analisi ciclica evoluta su DAX e Fuzzinibro. Per quanto riguarda il nostro primo T più T-2 inverso, da questo massimo a questo massimo potremmo avere la sua stessa chiusura, quindi potremmo avere più spinta verso il basso. Nella realtà dei fatti i future non ci aiutano questa mattina, sono quasi in parità, sono leggermente negativi. Mi attenderei ancora un rialzo, quindi un superamento magari anche di questo massimo a 12.698 prima di iniziare a scendere, però questo è un desiderata, non ha valenza di analisi stessa, perché solitamente i cicli, vedete, sono più, ok, panciuti, d'accordo, per cui mi aspetterei un top sopra questo prima di poi iniziare a vedere quanta spinta avremo a ribasso perché, come detto, siamo andati in Golden Cross e se da qui appunto è partito qualche cosa di nuovo, invece che da qui, dovremmo provare a avere spinta a ribasso. Mentre invece, se da qui è partito appunto un nuovo, se da qui, vedete, ancora l'ipotesi è quella, è partito un nuovo T si potrebbe tranquillamente andare in chiusura del T stesso perché siamo andati a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e questo sarebbe il settimo, se è ribassista chiuderebbe oltretutto, avrebbe la condizione minima per chiudere il T inverso stesso. Per quanto riguarda invece l'indice, siamo arrivati già con un T-1 teoricamente chiuso, ok, alla parte, una parte ormai, diciamo, di oltre la metà di quello che è un ciclo normale perché siamo arrivati al quinto T-3, forse, perché qui siamo andati, siamo a 44 bar, anzi sì, siamo andati oltre il quarto T-3 e dal quinto bisogna vedere se ci sarà appunto ancora una spinta verso l'alto prima di andare poi eventualmente a chiudere. attenzione, anche in questo caso, a noi per far partire un nuovo T più 2 da questo minimo serve perlomeno un 6 giorni a rialzo o la terra a rialzo. in questo momento ne abbiamo 4, con oggi ne avremo 5, basta non andare sotto questo massimo per almeno oggi e domani ed avremo il nostro T più 2 come partenza. Per cui se poi si vincolasse a ribasso oppure se torneremo ad avere spinta verso l'alto, comunque, in generale, da qui sarà partito un T più 2. D'accordo? Sempre controllo sugli swing. Per quanto riguarda invece il nostro fuzzi nib, abbiamo che dato che la situazione è lievemente diversa è possibile solo che, a meno che non si stia partendo qualche cosa da questo massimo, da qui eventualmente sia partito un nuovo T inverso, che sia arrivato a 1, 2, 3, 4 e stia però andare a fare il nostro quinto T meno 3 inverso, da massimo a massimo. Però, dato che qui eventualmente sarebbe partendo il secondo T meno 1, potremmo avere più spinta a ribasso per oggi perché chiuso eventualmente il nostro T meno 3 inverso, il primo, quello partito da questo massimo, che può tranquillamente essersi chiuso qui, a 28 barre, se qui, appunto, continueremo a scendere come mi aspetto di più andremo a finire innanzitutto sulla media mobile a 50 periodi, quindi in area 19.670 successivamente proveremo a spingere fuori dalla cum e quindi 610 e poi sotto, ok? Questo se dovesse essere confermato in qualche cosa di partenza da qui e comunque in generale anche se da qui fosse partito un T inverso. In questo momento mi sembra quasi più probabile appunto che sia partito da qui un T inverso per cui facciamo attenzione perché per andare in chiusura come al solito ci vuole un T meno 3 inverso e anche in questo caso, se andiamo a vedere, ci dovrebbe essere prevalenza di segno meno per oggi per un semplice fatto perché qui abbiamo o un inverted hammer oppure abbiamo una doji che significa interruzione del trend in essere, il conto trend in essere è salita quindi dovrebbe darci eventualmente, se non si andrà sopra questo massimo molto rapidamente a 19.896, ribasso. Questo direi che è tutto, non vado oltre perché i livelli di algoritmo li darò al gruppo di persone che mi dedica più tempo. Vi ringrazio, sarà una splendida giornata. Arrivederci.